Allora, al luogo di lavoro ci sono due colleghi, uno va nella stanza della fotopiatrice e c'è quest'altro che sta usando due fotopiatrici per fotopiare le cose. E il collega che fa? Scusa, cosa sta facendo lui? È una cosa A3. A3 è un formato della stampa, no? Quindi c'era lui e i due stampanti e gli chiede cosa sta facendo una cosa A3, capito?